Siamo a fermo al Montani, ci fanno le foto, guarda che roba, siamo in televisione. Gian Domenico, buongiorno. 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 Gian Domenico, di dov'è? Di Spinetoli. Di Spinetoli, che molti non sanno, perché quelli di Pesaro non sanno neanche dove possa trovarsi Spinetoli. Dov'è Spinetoli? In provincia di Ascoli. In provincia di Ascoli. Cosa c'è di bello Spinetoli? Niente, un paesino, un collino, un po' isolato. Sì, però tu sei l'assessore al turismo di Spinetoli, c'è qualcosa di bello. Sì, vabbè, sei isolato, c'è il panorama. C'è il panorama, Spinetoli è famoso per il panorama, avrà un pincio, avrà un bar, avrà una piazza, un monumento. Qual è il monumento principale? No, ci sta una piazza con una piazzetta a Belvedere dove tu vai lì e vedi. Oh, quindi una sorta di pincio, no? Come si diceva una volta, quindi una bellissima piazzetta a Belvedere. Gian Domenico, dove siamo? A che istituto? All'edizio Montani di Fermo. Tu che cosa fai al Montani? Io sto di elettrodecnico. E' elettrodecnico, vuoi diventare da grande un? Un perito elettrodecnico. Un perito elettrodecnico, che ti auguriamo di cuore che tu possa riuscire nella vita, nel lavoro, prima ancora che? Con le donne, come va con le donne? Normale. Normale, ma tre, quattro, quante ce ne abbiamo? Sì, una decina. Andiamo, ma giochiamo. Un bel applauso a Gian Domenico, il nostro leader lì, Spinetoli.